E per tutti ragazzi abbiamo tornato in questo nuovo video, questo nuovo vlog di inizio settimana e quindi dovevamo farlo, un vlog estivo, molto molto estivo, siamo qui nella mia postazione dell'elicottero che in questo momento ce l'hanno rubato purtroppo, no è a fare benzina, tu mi hai detto che ce l'hanno rubato, me l'hanno ritornato, comunque iniziamo subito con le news, allora andando alla fine del video ci sarà un video praticamente che ho fatto io delle riprese su banque insieme a lui perché queste domeniche siamo andati a mare quindi abbiamo fatto attorno, ho fatto, vabbè lui perché non me la fa usare, si perché gli abbiamo di crampo a mare, e niente abbiamo fatto queste riprese sott'acqua e lo vedete alla fine del video, un'altra cosa è che siamo arrivati a 268 iscritti, vabbè dai buono come cosa però vediamo se possiamo arrivare ai 300 iscritti subito, entro la fine dell'estate, subito va, per quanto riguarda i video la prossima settimana ci sarà un video sulla recensione per dire che però ho fatto bene della sedia da pesca perché diciamo quella la è una sedia veramente ottima, anche qualità prezzo, qualità soprattutto, anzi, anzi, cioè se dobbiamo farla completa, io domani o dopo domani dovrei andare a pescare giusto, o domani o dopo domani non si sa, e quindi forse giusto, questo sgabbello lo potrei anche andare a provare, così per dare le anche le mie impressioni, che dici? Sì, fermo, fermo non mi è andato a puoi riuscire, non mi è andato a puoi niente, ah non lo so male quello poi dipende, giusto, e poi un'altra news è quella, cioè non news è una cosa che volevamo dirvi è quella di commentare sotto i video, in modo tale che così io vedo diciamo, ma si dice, l'apprezzamento intanto dei video con i like e soprattutto se commentate, vedo le persone che sono più interessate al canale, quindi per regalargli poi i premi che poi andranno messi ogni 2 settimane, perché ora, non so, Andrea non lo voleva attuare questa cosa, giusto? però oramai, visto che stiamo quasi sui 300 iscritti, oramai? giusto, perché sui 300 iscritti i 400, quindi volevamo attivare tipo una specie di premiazione ogni 2 settimane, cioè a chi commenta di più video e chi mette più like, più like avrà il premio, ogni 2 settimane, per ogni 2 settimane, delle 2 settimane, si giusto, ci sta, cioè ad esempio noi ne so, in una settimana facciamo 4 video, e questi 4 video ad esempio, in una settimana, 2 settimane, 4 video, che ne so, e allora in queste settimane tutti i video arrivano a 40 like, per esempio si, almeno dobbiamo arrivare a vendere anche ogni video almeno, almeno, ci arriviamo, non è questo problema, però anche, cioè quello che vogliamo dirvi ora, qual è il messaggio che vogliamo mandare, il messaggio è che commentate, mettete like, state attivi sul canale, per essere attivosi, per avere premi, ma a parte i premi, cioè, non è che siamo, allora il canale, soprattutto è nato per, sì, vabbè, la pesca, di tutte queste cose, di tutte queste feste di pesca, cioè, sì, vabbè, diciamolo, mettiamola su questo piano, vabbè, dai, vabbè, niente, come vi descrivi farò video in piscina, quando apre la piscina, se l'apro, se l'apro, se l'apro, se l'apro la piscina e niente, io direi di finirete questo vlog qui, alla fine del video avrete il video che vi ho promesso, ovvero il video subacqua, dove si vede molti quanti pesci e cose, e niente, arriviamo a 20 like, ci vediamo con un prossimo giorno, con un prossimo video, eh, buoni! si sconda la fotocamera, la fotocamera, la fotocamera ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.